Ben ritrovati amici di Rangue Sport, qui Donnecatto e un caro saluto da un'Africa Colucci. Nuova ASICS Gel Nimbus 22. ASICS ha sovrapposto due diverse mescole. Il flight foam propel più dinamico e reattivo al flight foam light più leggero. Il primo più morbido e dal grande potere reattivo, ora è posizionato più vicino al terreno per fornire una sensazione di corsa più reattiva. Anche la Tomai è stata rinnovata utilizzando un mesh monofilo che appare più leggero ma al tempo stesso più robusto nelle zone di maggior usura. La nuova suola presenta otto intagli di flessione profondi 2 mm, mentre sul mesopiede compare la corposa tecnologia Trastic in materiale termoplastico che fornisce stabilità alla scarpa stessa. E tante altre funzioni che vi spiego in negozio con tutta la nuova collezione Spring Summer 2020 di ASICS. La nuova ASICS Gel Nimbus 22 da Rangue Sport a Necatto, restituitici su ranguesport.it. Vi ricordo che spediamo in tutta Europa e in Italia compresa. Ciao a presto a tutti.